Insieme, di nuovo. Perché ti sei lasciata mettere in trappola da quella? Con un obiettivo comune. Stiamo solo cercando di evitargli il manicomio. E un segreto che cambia tutto. Non è un po' strano che sia diventata così buona? Sabrina Ferilli, Virna Lisi, Leali della Vita 2. Venerdì 21.10, Canale 5.